Sì, ovviamente non dobbiamo nasconderci, siamo una squadra con tantissima qualità, però questa va messa a disposizione del compagno. Ho visto la palla rimbalzare là, con la coda dell'occhio ho visto Diego solo e quindi in questi momenti bisogna fare la scelta giusta. L'ho visto da solo e non ho esitato a passargli la palla di testa e poi è stato bravo lui anche a mandarla in rete. Certo, sicuramente ci vuole un po' di tempo anche perché il mister è arrivato da poco, abbiamo lavorato tanto bene, però comunque ci vuole del tempo. E' vero anche che comunque il tempo è poco, si stringe e noi ci dobbiamo far trovare pronti perché in questo campionato molto equilibrato c'è bisogno di fare punti, a prescindere da contro chi giochi. La cosa importante oggi era, per come si era messa, portare a casa punti. Ci siamo riusciti portando un punto, però meglio un punto che niente. Tornare a giocare in Campania è una cosa bella perché comunque senti di dare di più alla tua terra. Per quanto riguarda la mia condizione sto aumentando pian piano la condizione. Purtroppo sono stato fuori un mese, quindi ho perso un po' il ritmo partita e come sapete per prendere condizioni c'è bisogno di partire, di partite e di giocare perché se no la condizione non la prendi mai. Sono contento perché pensavo che non ce la facessi a fare 90 minuti, però diciamo che è andata bene. Devo ancora lavorare tanto, però le condizioni sono positive. Diciamo che nei ruoli davanti mi trovo bene un po' dappertutto. Negli ultimi anni ho giocato anche da falso 9 e diciamo che magari ho perso un po' di realizzazione, però comunque la manovra uscivo tanto fuori per far girare un po' la squadra. Per me non ci sono problemi, io mi metto a disposizione del mister e dei miei compagni, poi sta a lui decidere chi e dove mettere i giocatori. Io sicuramente o centrale o esterno o terzino darò il massimo per questa società e per questa squadra. No, ci ha fatto provare diversi moduli. Abbiamo provato con una difesa a 4 e poi con una difesa a 3. Ma al di là del modulo bisogna sacrificarsi per il compagno perché il modulo in una giocata può cambiare. E noi dobbiamo essere bravi a farci trovare i pronti e al posto giusto. Ma a Veseli secondo me si è fatto male, però speriamo di no dai. Domani penso domani e dopo domani farà una risonanza e vedremo. Mentre Camil ha avuto un problemino all'adduttore, speriamo sia una contrattura e speriamo bene.